Saranno interrogati domani dal GIP i due quindicenni accusati a vario titolo di tortura, sequestro di persona, minacce, lesioni aggravate e porto di oggetti a ti offendere con l'aggravante dell'avere agito per futili motivi. La loro versione del racconto sarà posta al vaglio delle autorità giudiziarie e degli organi inquirenti, che per chiarire ogni aspetto di quanto sarebbe accaduto quel giorno dello scorso settembre, ascolteranno attentamente. Per loro il Tribunale per i minorenni Nisseno ha disposto il carcere, visto l'esito delle complesse attività investigative coordinate dal Procuratore della Repubblica per i minorenni Rocco Cosentino e condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta. Tutto sarebbe partito dalla vendetta, la vittima avrebbe esternato il proprio disappunto, parlando con altre persone di altre aggressioni che i quindicenni avrebbero compiuto nei confronti di alcuni suoi amici. La loro versione del racconto sarà ascoltata domani, per chiarire ogni aspetto di quanto sarebbe accaduto in quel garage. La vittima, di soli 13 anni, accompagnato dalla madre, ha denunciato quanto accaduto gli cinque mesi fa. Un'ora e mezza da incubo, quella vissuta da ragazzo, da fare impallidire le sceneggiature delle serie TV più gettonate dai giovani, che richiamano le dinamiche dei videogiochi più violenti, che tanto li affascinano. Eppure la scena si è svolta a Caltanissetta, dove due quindicenni avrebbero dato appuntamento alla vittima, con la scusa di dovergli mostrare una sigaretta elettronica ed una volta attirato con l'inganno all'interno di un garage di proprietà di uno dei due, lo avrebbero dapprima fatto sedere su una sedia, poi bloccato con il nastro da imballaggio con cui hanno avvolto caviglie e polsi e poi lo hanno imbavagliato, da quel momento percosse, schiaffi, pugni sulla nuca, sputi in faccia, calci alle caviglie, alle costole e su tutto il corpo. Poi le minacce con attrezzi da lavoro, tra cui martelli e un coltello, puntati all'altezza del viso e degli occhi, ma non solo, anche acqua e olio per motori versati addosso, avvicinando subito dopo un accendino alla nuca, a spezzare la spirale di violenza e il rumore della presenza di alcune persone fuori dal garage. A quel punto, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero dapprima colpito alle costole il ragazzo o poi lo avrebbero minacciato di morte se avesse parlato con qualcuno. Da quel momento il giovane non è più riuscito ad uscire da solo, temendo di incrociare per strada i due quindicenni. Un racconto che avrebbe trovato riscontro durante le indagini svolte meticolosamente dai carabinieri di Caltanissetta, da cui è emersa una condotta di vita dei due giovani indagati, improntata al mancato rispetto del prossimo, alla risoluzione di controversie giovanili attraverso sistemi violenti, motivo per cui la Procura ha richiesto l'applicazione della misura cautelare personale, la custodia cautelare. Un altro fatto che a distanza di poche settimane dal pestaggio di un quindicenne davanti al proprio istituto scolastico fa emergere il lato oscuro che poco si conosce del mondo giovanile di Caltanissetta, che affiora attraverso episodi che fanno da cartina tornasole del disagio sommerso presente in città.